In Italia le prime stime sugli effetti della crisi sul settore della panificazione evidenziano che da qui alla metà del 2023, in assenza di aiuti concreti alle aziende o interventi strutturali, potrebbero chiudere fino a 1.350 imprese dell'intero settore con una perdita di circa 5.300 posti di lavoro. Il quadro attuale disegna uno scenario che configura un balzo eclatante delle voci di costo, mediamente quadruplicate per gli operatori. Fino a questo momento, come spiegato dal presidente Assipan di Pesero Urbino, Marcello Angelini, le imprese della panificazione si sono ingegnate con modifica alla produzione o sostituendo determinati prodotti, ma ora, aggiunto, a causa degli aumenti sconsiderati dell'energia non è più sostenibile, così come è anche difficile pensare ad aumenti dei listini che si scaricherebbero sul consumatore finanziario. Il quale, in fin dei conti, vive la nostra stessa drammatica situazione. Di quanto sono aumentati in generale i prezzi? Purtroppo fino al mese scorso ancora avevamo il prezzo bloccato, quindi eravamo nella norma come gli altri anni, invece adesso sono triplicati, quindi non solo le bollette, anche oltre la farina che già da dicembre abbiamo avuto questo aumento, anche altre materie prime, tipo pomodoro, latte, sono aumentati l'olio. Al momento siamo un po' in difficoltà. La gente anche fa delle spese in maniera più oculata? Certo, abbiamo visto che inizia anche sul pane, è una piccola cosa, però magari invece di prenderne un pezzo più piccolino, prende un pezzo più grande e gli dura anche qualche giorno in più. Lei come affronterà, come pensa di affrontare quello che sarà definito il dramma dell'autunno con questi rincari, queste bollette esorbitanti che arriveranno? Dico sempre, il mio motto è positività. Comunque dovremmo magari ottimizzare un po' di più qualche spesa, tipo io al cliente non dico mai di no, anche per una crostata accendo il forno e la cuocio. Adesso questa cosa magari non la potrò più fare, ecco, dovrò magari riempire il forno intero oppure, che ne so, anche le commesse, aggiustare con gli orari per non avere magari dei buchi, poi vedremo come si può fare. Lei le prime bollette già le ha viste, di quanto sono rispetto prima? Allora, la prima bolletta è arrivata adesso, adesso non dico la cifra, però comunque è triplicata rispetto a quella passata. Secondo lei a livello nazionale il governo che cosa dovrebbe fare? Subito qualche misura immediata? O forse si doveva già muovere da prima? Sicuramente si doveva muovere già prima. Aspettiamo il governo se riesce a darci qualche contributo per andare avanti. Adesso noi non è che chiudiamo l'attività, perché comunque dopo vent'anni di duro lavoro, insomma anche perché il lavoro nostro del panificatore si sveglia alle una e mezza di notte, fino a mezzogiorno, quindi sono orari un po' difficili. Teniamo duro, ci rimbocchiamo le maniche, vediamo se qualcuno ci dà una mano, sicuramente anche due mani ci vogliono. In questo momento purtroppo sì. Rincari i prezzi, anche sul pane ci sono degli aumenti notevoli? Qua, francamente, grossi aumenti io finora non li ho registrati, anche se chiaramente per questioni energetiche ci saranno, perché è un problema che riguarda un po' tutti i commercianti, di questi forni che hanno bisogno di energia per fare il pane, per dire. Però insomma io sono anni che sono cliente qua, mi devo trovare abbastanza bene, quindi se ci sono degli aumenti sono regolari e giusti. Invece in generale? In generale c'è molta speculazione, anche se poi non sono giustificati. Ma secondo lei prima o poi qualcuno si rivolterà? Beh, è un momento un po' particolare, adesso mancano punti di riferimento, c'è una politica che è molto vacillante, vediamo cosa succede, chiaramente non abbiamo fatto delle scelte energetiche prima, ma noi siamo in Italia, ci passiamo sempre dopo.